Saranno ancora le basse temperature ad avvolgere il weekend sportivo algherese. Si parte sabato 11 febbraio con la diciottesima giornata del girone A del campionato di Serie 2 di basket femminile. Spareggio salvezza al Paracorbia con la Mercedes San Paolo Alghero che ospita il fanalino di Coda Biassono, distante solo due punti. Nell'ultimo turno le algheresi, penultime assieme alla Robi Profumi Borgottaro-Valtarese e all'officina Gaudino Collegno, si sono viste rinviare al 10 marzo per il maltempo la trasferta sul parquet della capolista Libertas Bologna, mentre le ultime della classe hanno perso a domicilio 69-78 contro Muggia. Nel messe d'andata la Mercedes vinse a Biassono 55-54. Domenica 12 febbraio si disputa invece la ventiseesima giornata del campionato di calcio di eccellenza regionale. Turno casalingo per Alghero che dopo il 3-1 subito in casa della capolista Torres cerca il riscatto ospitando il Muravera. I giallorossi occupano sempre la quarta posizione a pari punti con il taloro Gavoi, che però nell'ultima giornata non ha potuto giocare il proprio incontro per motivi climatici, proprio sul campo del Muravera. Recupereranno domenica 19 febbraio. I ragazzi del capo di sotto occupano invece l'undicesima piazza in coabitazione con il Carbonia. All'andata l'Algero sbancò il campo di Muravera per 3-1. Per lo stesso campionato trasferta durissima per il Fertilia che gioca sul campo della vice capolista Olbia nel big match di giornata. I ragazzi di Mister Paba, terzi in classifica o 8 punti dai galluresi, sono reduci da rotondo 3-0 casalingo rifilato al Castiadas, mentre Siazzo e compagni sono andati a vincere 3-1 sul terreno di gioco del Pula. Nel girone d'andata il Fertilia si impose con il minimo scarto al Mariotti. Nel girone d'andata il Fertilia.